Laura, che succede? Sono in corso la terza regata, non hai potuto partecipare, perché? Purtroppo da ieri mi è venuta a fare una tendite al braccio sinistro, infatti già ieri l'ultima prova non l'avevo disputata. Stamattina ho fatto delle terapie al braccio, mi hanno messo anche un vendaggio, però purtroppo anche oggi la terza prova non sono riuscita a concluderla. La seconda ho tenuto duro, però poi verso la fine mi faceva troppo male, non aveva neanche senso fare l'ultima prova per finire negli ultimi dieci. C'è un'altra prova per voi ancora o per te è finita? Sì, domani dovremo avere il giorno di riposo e dopo domani le ultime due prove. Conti di recuperare ovviamente per giocarti le ultime due? Sì, sì, certo, almeno le ultime due prove, spero di domani con la pausa di riprendermi un po' e le ultime due prove. Spieghiamo come mai ti stai toccando sempre la faccia che per chi non è presente. Sì, scusate, mi sembra che mi stia tirando delle sberle, però in realtà è pieno di mosche qui, mettendo la crema solare poi vengono attirate ancora di più, quindi... Meno male, ok. Prendiamo di toglierle. Grazie Laura, buon divertimento e spero che ti possa recuperare per dopo domani. Grazie mille, ciao. Grazie. Grazie.